Salva una vita, il mondo dell'animalismo e i suoi segreti è un testo per salvare, difendere e proteggere gli animali. Un libro presentato alla Casa dell'Energia di Via Leone Leoni dall'autore Gabriele Merlo. Farà vedere appunto come l'animalismo viene vissuto oggi, come viene applicato e come la conoscenza anche della normativa stessa di settore possa aiutare tanto anche a proteggere appunto le vite dei nostri amici a quattro zampe, ma in qualche modo anche di tutti gli animali presenti nel nostro ecosistema. Un libro raccontato dall'interno, Merlo infatti è coordinatore nazionale guardie zoofile, direttore dei corsi formativi Leida, animalista con oltre 30 anni di esperienza in Italia e all'estero. Il libro Salva una vita è un libro un po' particolare che ad oggi non è mai stato scritto, perché è un manuale che insegna alle persone sia a vezzi all'animalismo che non, quindi anche i cittadini semplici, a proteggere, salvare e difendere gli animali. È un libro scritto in maniera molto semplice ma permette a tutti di salvare delle vite e lo scopo poi dell'animalismo qual è? È quello appunto di salvare delle vite. E Salva una vita permette proprio di fare ciò, cioè permette di salvare delle vite, con degli esempi, con le leggi che ci sono oggi e servono a tutelare gli animali e con delle storie anche alle etofine. I miei lettori dicono sempre che nelle prime pagine di Salva una vita scendono delle lacrime di commozione da dispiacere. All'interno di Salva una vita, nella parte centrale, si impara a salvare gli animali e nella parte finale scendono le lacrime invece di gioia per le storie alle etofine.